Musica Incidente oggi poco dopo le 18, la rotonda è uscita sulla provinciale 13 a Busano. Un cinquantenne di Fabri ha perso il controllo della moto Honda Hornet che stava guidando ed è scivolato sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti la Croce Rossa di Rivarolo Canavese, l'edio di soccorso del 118, i carabinieri della radiomobile di Veneria Reale e il sindaco di Busano Gian Battistino Chiono. L'uomo è stato prontamente soccorso e lì trasportato all'ospedale di Ciriè. All'arrivo dei sanitari, l'uomo era cosciente e dichiarato di essere caduto da solo. Ora si dovrà accertare se la caduta è stata causata da una disattenzione o da un malore.